Bianca 3275 in Trenitalia, delle ore 16.10, proveniente da Venezia a Santa Lucina, è una figo ordinario 4. Arrivati a Modena, finalmente. Un saluto a Vasco. Ciao Vasco! Da dove arrivate? Per una! Qui per Vasco. Guarda, guarda qua! Da dove arrivate? A Venezia! Cordenone! Cordenone, tu? Da dove arrivate? A Ponegliano, a Ponegliano! Siete arrivati in Modena finalmente? Eh, finalmente siamo qua pronti anche quest'anno a sentire Vasco, il grande Vasco. Da dove arrivate? Mantova! Vasco! Che è la Mantova! Mantova presente! Vai! Mantova! Dove arrivate? A Verona! Pronti per Vasco? Per Vasco! Che arrivate voi? Sì! Torino Pasquo 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 Da dove arrivate voi? Da Milano Tutti da Torino Da dove arrivate? Torino Vercelli Vrescia Pasquo 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 Torino Pasquo Viaggio spettacolo, casino della Madonna. Come è stato il viaggio in treno? Pessimo, abbasso Trenitalia sempre. Perché? Come è stato il viaggio in treno? Benissimo. Cosa avete fatto? Nulla, spazio e basta. Perché è benissimo? Cosa è successo? Ma ci fa caldo. Caldo. Molto. Come è stato il viaggio in treno? Caldo. Odissea? Specialmente regionale. Siete pronte per l'evento adesso? Sì, adesso sì. Com'è stato il viaggio in treno? Tanta gente, moltissima gente. Cosa avete fatto? Cantato? Qualche coro, sì. Il servizio Trenitalia come è andato? Tanta gente in piedi. Com'è stato il viaggio in treno? Bello. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto? Abbiamo fatto niente. Siamo seduti. Il treno di Vasco? Il treno di Vasco. Che viaggio è? Impegnativo. Abbiamo fatto salire per la gente in alto. Ma cosa avete fatto il treno? Il treno di Vasco! Vai! 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 Vasco! Vasco! Andiamo alla gente sulla per Vasco! Da dove arrivate? Treviso. Treviso. Tutti da Treviso. Siete pronte per Vasco? Prontissime. C'è un po' di gente. Saremo cariche già subito ma... Andiamo a aspettare. È un evento epocale. Epocalissimo! Prontissime! Prontissime! Come sarà l'evento? Un evento? Siete contenti di essere qua Modena? Vado bene. Vado bene. Vado bene. Anche voi in treno avete fatto il viaggio? Com'è stato? Lunghissimo. Piacere. Servizio a Trenitalia? Andato bene? Bene! Olaaaaaaaaaaaaaaaa! Sardini, caldo, fresciati, però si passa bene, dai. Adesso siete pronti per il concerto? Prontissime. Inizia l'avventura. Inizia, ce l'abbiamo fatta. Vasco, Vasco. Da dove arrivate voi? Da Cesena. Cesena, tutta qua. Dove arrivate? Solo per Vasco? Sì, poi possiamo anche morire Siete pronti per il concerto? Certo, 4 ore 4 ore di Vasco Un concerto di chi? Di buco? Ok Da dove arrivate? Da Firenze Siete pronti per Vasco? Assolutamente sì, è il mio ventesimo concerto Come sarà questo Modena Park? Strebidioso Domani faccio la prova, fidati Come sarà questo evento? Spettacolare e unico, irripetibile come sempre Anche per lei? Sì sì Bene, grazie Da dove arrivate? Da Padova Tutti di Padova siete Ecco, 4 ore di concerto, 40 anni di carriera Come sarà questo Modena Park? Da brividi, emozioni uniche Restarà veramente nella storia E noi potremmo dire ci saremo Siete arrivati a Modena comunque Siamo arrivati a Modena Il più l'abbiamo fatta Adesso basta solo arrivare Il più è qua Dalla Calabria e da Pavia Dalla Calabria e da Pavia, hai capito? Sì, un po' di tutto Allora, dalla Calabria fino a Modena per Vasco? Sì, assolutamente Ecco, come sarà questo evento? Il più bello è l'assoluto Il più emozionante Tu preghi il tuo Dio che io preghi il mio Vasco Rossi! Sì, oh no! Verrà questo evento di Vasco? Bellissimo Spaziale Fantastico Non dimenticare Non dimenticare Hai avuto in camera? No, ascolta No, ascolta Grazie a tutti